Altri particolari dell'inchiesta Glicine sono i temi più importanti, più approfonditi che oggi occupano le pagine dei quotidiani regionali in edicola con cui come sempre noi iniziamo l'appuntamento, il consueto appuntamento con i giornali in tv su stv ben ritrovati da Pasqualino Rettura ovviamente oltre alle notizie più importanti quelle dell'inchiesta Glicine troviamo anche altre notizie che riguardano la sanità altre notizie che ancora interessano il ponte sullo stretto di Messina e poi chiaramente come sempre andremo a dare anche uno sguardo alle principali notizie che troviamo sui quotidiani regionali sui quotidiani nazionali le prime pagine appunto che troviamo le principali notizie che troviamo sui quotidiani nazionali per quanto riguarda intanto l'inchiesta Glicine oggi sul quotidiano del sud leggiamo questo titolo le mani su ATERP e rifiuti nelle carte dell'operazione Glicine i dettagli del blitz della DDA partito da Crotone questo blitz appunto partito da Crotone che ha coinvolto anche politici è quell'articolo sul partito della Pagnotta che scatenò l'ira di Enzo Sculco questo scrive la prima pagina del quotidiano del sud e poi ancora ponte sullo stretto dicevamo Salvini promette comuni uditori in consiglio di amministrazione della società stretto di Messina poi c'è una storia raccontata oggi dal quotidiano del sud imam ancora nel limbo l'ambasciata nega il passaporto il ricordo di Giacoya Emanuele e l'utilità dell'inutile vero giornalismo i blitz di Monza il ruolo di Bellocco e Brandimarte nell'estrarre la cocaina poi sanità anche sanità dicevamo rete ospedaliera la guerra di occhiuto alla duce il documento non sarà trasmesso Marcello Minenna risponde al GIP inchiesta mascherine Minenna assessore regionale sospeso ma è stato arrestato in qualità di capo ex capo appunto dell'Agenzia delle Dogane poi Cutro parchi eolici confermate le condanne per i boss comune di Crotone nuova riunione del consiglio su Congesi comune di Vibbo un piano per non rendere assetata la città Reggio Calabria lettera aperta di Lega Coop sulle strutture psichiatriche Catanzaro il presidente camera amministrativa dice il Tar in centro servono i fatti Vibbo Valencia libero il guidatore dell'autokiller il guidatore che appunto all'alba di domenica scorsa ha investito i due camerieri morti purtroppo sul colpo sulla trasversale delle serie era stato arrestato era finito dai domiciliari per omicidio stradale e ora è tornato in libertà poi Cutro Clannine Emilia Romagna raffiche di pene e questo era sempre sul quotidiano del sud anche questioni che riguardano politica nazionale ma anche internazionale meloni alle camere adesso non è il caso di ratificare il mess il meccanismo appunto economico economico l'intervento della premier alla vigile del consiglio dell'unione europea e sui migranti dice si va verso il piano Mattei questa era appunto la prima pagina del quotidiano del sud con cui appunto abbiamo aperto il nuovo appuntamento con i giornali in tv naturalmente come sempre ogni giorno con voi sui canali 94 e 98 del digitale terrestre di stv allora dopo la prima pagina dell'edizione Carabba edizione cartacea del quotidiano del sud andiamo anche alle edizioni online di qualche testata andiamo anche a lametino.it prima di passare su gazzetta del sud sullametino.it ulla festival sbarca su costo numistano con alieni e pianeti per serata di musica dance e ancora sullametino incendi estivi nuovi investimenti dei vigili del fuoco la mezzia fra le basi nazionali delle gru volanti per quanto riguarda la regione ok dalla giunta regionale al disegno di legge per proroga graduatorie operazioni sociosanitari e infermieri travolti e uccisi sulla trasversale dell'eserre mentre rientravano da lavoro rimesso in libertà il guidatore minenne interrogato a forlì il legale dice ha risposto chiarendo tutto questo era sullametino.it leggiamo operazione glicina che ronte si è costituito in germania il secondo ricercato malattie neurodegenerative confronto a più voci in cittadella organizzato dall'aisla serve un nuovo paradigma assistenziale alla mezzateme ci sarà Anna Tatangelo in piazza Italia alla mezzia l'8 luglio per i festeggiamenti di San Francesco di Paola la mezzateme picnic al museo matite libertà il 30 giugno al museo archeologico poi studio internazionale INGV è unica su prevenzione terremoti analizzate alcune delle sorgenti più importanti della Calabria la mezzia evento persone LGBT e diritto il 30 giugno alla tribunale di la mezzia violenze all'ex moglie il GIP di Crotone dispone un arresto incontro Salvini sindaco di Villa San Giovanni sul ponte sullo stretto comuni coinvolti saranno uditori nella CDA della società stretto di Messina poi gruppo consigliare PD gizzeria amministrazione in ritardo per intervento disinfestazione poi operazione libertà a isola capo rizzuto nuovo arresto alla mezzia terme l'uno luglio all'antico mulino delle fate incontro con l'uomo che sussurrava agli alberi a giri falco concerto del quartetto d'archi avant-garde il 29 di giugno e poi ancora la guida di un moto d'acqua in veste bagnante a crotone denuncia di 5.000 euro di sanzione poi la mezzia terme incontro fra le comunità terapeutiche calabresi massima attenzione al settore delle dipendenze patologiche alla mezzia terme la direzione cittadina del PD di la mezzia verso proposta politica in contrasto con la giunta Mascaro e ancora armonie magna grecia il 29 giugno a giri falco il quartetto avant-garde all'ambulatorio solidale da febbraio oltre 900 visite all'ambulatorio solidale questo servizio gratuito che c'è nella città di la mezzedema per le persone più bisognose insomma per le famiglie più indigenti risultato premiato dalla gratitudine dei pazienti carabinieri e confapi insieme per seminario la sicurezza sui luoghi di lavoro questo era abbiamo appunto visto anche le notizie che riguardano come detto il sito online lametino.it e dopo la prima pagina del quotidiano del sud lametino.it andiamo anche a dare uno sguardo a scorrere le notizie di Gazzetta del sud online crotone violenze alla ex moglie disposte all'arresto di un quarantenne nella prima pagina di Gazzetta del sud edizione Catanzaro crotone la mezzaterma e vibbo leggiamo accordi opachi sulla gestione dei rifiuti poi la mezzaterme PSC verso l'approvazione finale arriva l'ok della regione alla VAS la valutazione appunto ambientale Cutro i tentacoli dei grandi aracri in Emilia diventano definitive 18 condanne poi ancora comune di Vibbo le strade del risanamento continuano a passare dalla capitale e ancora la città di Catanzaro come un grande cantiere avviati interventi per 28 milioni di euro Drangheta il blitz di Crotone accordi opachi appunto dicevamo sulla gestione dei rifiuti il comune di Crotone in mano agli sculco scrive Gazzetta del sud poi sempre Drangheta il blitz di Crotone e il ritorno di fiamma per il progetto Euro Paradiso poi Pannaconi novena in onore di Don Mottola con tanti eventi estemporane di pittura e seconda edizione del premio alla carità sempre Drangheta il blitz di Crotone Salvatore Aracri si consegna alla polizia di Stoccarda a Vibo Valencia la polizia chiude nuovamente un locale di salagiochi scommesse a Crotone investe un bagnante con l'acquascutere e non si ferma a prestare soccorso denunce e sanzione di 5.000 euro poi incidente sul lavoro a Vibo grave un 65enne caduto da una scala trasferito con l'elisoccorso a Catanzaro poi a Sellia Marina praticava tassi usurai del 300% pensate un po' mettendo in ginocchio due coniugi e c'è stato un arresto poi pulizia e sfalcio di aree private il sindaco di Vibo firma l'ordinanza necessario che anche i cittadini collaborino poi torna libero l'investitore dei camerieri travolti appunto sulla trasversale delle serre e poi sempre a Crotone droga e una pistola occultati nei cespugli nel quartiere Trafinello è finito in carcere un 37enne questo era dunque sulle pagine del sito online Gazzetta del Sud quindi abbiamo iniziato come detto con la prima del quotidiano poi abbiamo visto le notizie sul lamettino punto it e su Gazzetta del Sud web torniamo al quotidiano del Sud partendo dalle notizie interne si parte dal conflitto russi ucraina il piano Wagner catturare i vertici militari russi poi raid sul locale 11 vittime morte due gemelle di 14 anni Zerisca accusa la Russia è attaccato brutalmente dice il presidente dell'Ucraina quindi Francia un'altra brutta notizia un 17enne ucciso da un agente scontri in strada e ancora andiamo all'inchiesta di Crotone il partito della Pagnotta il partito della Pagnotta e l'ira di Enzo Sculco le intercettazioni sullo scoop commenti con la figlia il clan appoggiò non noi ma Devona quindi ci fu un articolo sul quotidiano del sud dal titolo appunto il partito della Pagnotta poi intercettato al telefono Sculco commenta questo articolo poi l'inchiesta il GIP ravvise i tentacoli della Cosca Megna nell'affidamento per la fiera del mercato Flora Sculco la regina di Crotone così per gli inquirenti il comitato usava l'Aterp poi chi entrava gratis allo stadio di Crotone lo decideva il boss Domenico Megna indagine sul monopolio dei rifiuti la DDA Ivren e i loro manager dettavano le norme a dirigenti e politici della regione affari strepitosi con i conti dormienti proiezioni in Emilia Romagna poi ancora andiamo a Sanità la rete ospedaliera Occhiuto esclude il tavolo a Duce poi i centralinisti del 112 a tempo determinato Stretto di Messina Spazio dei Comuni lo dice Salvini per la società Stretto di Messina poi a Cutro Condannati i signori del Vento otto anni e mezzo a testa per i boss Mancuso dell'Imbadio e Trapasso di San Leonardo la Corte di Cassazione conferma le infiltrazioni mafiose nei parchi eolici intesa per la gestione di quattro beni confiscati alle mafia a Reggio Calabria poi il blitz di Monza narcotraffico il ruolo di Bellocco e Brandi Marte e il contatto con il broker di Cusano Tar in centro a Catanzaro servono i fatti le sollecitazioni del Presidente e della Camera amministrativa distrettuale ci sono caserme solo parzialmente utilizzate e molti immobili anche privati poi rimpasto a questione tutta aperta rimpasto in giunta a Catanzaro la mezzia term politica unità non logiche correntizie documento d'apertura alle forze progressiste del direttivo del PD di la mezzia che parla di unità è stata approvata all'unanimità la relazione e le conclusioni del segretario cittadino del PD Gennarino Masi ambulatorio solidale alla mezzia sono oltre 900 le visite complessive effettuate nelle diverse 21 specialità l'ambulatorio appunto gratuito per i più bisognosi appunto numeri sempre più in crescita per appunto le 21 branche della sanità di cui si occupano i medici gratuitamente dell'ambulatorio solidale della mezzia ospitato nei locali messi a disposizione della Caritas c'è Marco Amendola di la mezzia bene comune che denuncia il fatto che marcia a piedi delle strade della mezzia sono nel degrado e alla mezzia i ricchi e poveri accendono la festa soccorso lunistrano i ricchi e poveri hanno aperto la tre giorni dei festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo ci sono state anche altre altre iniziative oltre appunto ai ricchi e poveri c'è stato il tour Ulla Festival Dance e si chiuderà con i giganti di Varapodio e la fanfara dei bersaglieri a Maida nell'ambito della giornata del rifugiato è emerso che sono ben radicati i valori della solidarietà a Maida l'amministrazione comunale ha organizzato una iniziativa a Soveria Mannelli l'ospedale un tempo era il fiore all'occhiello dell'area del Reventino c'è stato un raduno dei medici in pensione già in servizio appunto al nosocomio Montano ricordati i tanti reparti dell'ospedale come il punto nascite che era una eccellenza a Gizzeria disinfestazione al più presto sollecitazione del gruppo consigliare del PD a Maida vestito Arbares della frazione Venere di Maida protagonista al festival Arbares di San Giovanni in Fiore a Crotone un nuovo consiglio comunale sulla Congesi leggevamo poi ancora Reggio Calabria la soluzione c'è ma va fatta in fretta si parla di strutture psichiatriche nella nella Locrida a Bivongi monta la protesta per una strada interrotta a Vibo Valencia piano per non rendere assetata la città il progetto contenuto nel documento unico di programmazione che sarà discusso da consiglio comunale di Vibo il 4 luglio intensificare la raccolta rifiuti è previsto un sistema appunti per attuare sconti sulla Tari a Tropea nuova caserma i solleciti di Piserà della nuova caserma dei Carabinieri il consigliere comunale di Tropea Piserà scrive al ministro Piantedosi e al sottosegretario Vandaferro poi a Vibo Valencia è stata chiusa una sala scommessa a seguito della decisione presa dal Tar a Pizzo mare fiumi di parole e liquami dura critica alle istituzioni non si prende atto della gravità del problema Paolillo del WWF interviene sulla condizione in cui versano alcuni tratti di costa Filadelfia ecco i piccoli attori in fila successo oltre le aspettative per il laboratorio teatrale dedicato ai bambini la pregevole iniziativa ideata dal regista Francesco Pileggi appunto questo era sulle pagine del quotidiano del sud poi sul quotidiano le pagine di cultura Cabi Broccoli storia di film ed emigrazione Emanuele Giacoglia e l'utilità dell'inutile vero giornalismo a Cosenzo un omaggio a Emanuele Giacoglia il giornalista gentiluomo che è scomparso l'anno scorso questo era sempre sullo quotidiano del sud come sempre abbiamo visto anche le pagine interne del quotidiano del sud dopo aver passato in rassegna i titoli della prima pagina sia del quotidiano poi abbiamo visto in rassegna anche le notizie che abbiamo letto dal lamettino punto it e anche e anche dalla da gazzetta del sud online poi come sempre andiamo ora nella seconda parte dedicata alle principali notizie delle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola sul Corriere della Sera Meloni attacca su MES e Banca Centrale Europea la Repubblica Meloni processa l'Unione Europea libero Salvini sperona la racchete poi la stampa MES e Tassi Meloni accusa la BCE irritata con l'Italia Giorgia le canta all'Europa scrive il giornale sul fatto quotidiano tutti bombardano la pace ma il Papa non si arrende il tempo Meloni sfida l'Europa la verità l'ultimo scherzo di Draghi è la Meloni domani Meloni attacca l'Unione Europea è Lagarde sul MES si decide di non decidere il riformista Roma infestata il manifesto caduta tassi il messaggero l'inflazione rallenta la corsa Meloni tassi troppo alti sul sole 24 ore sanatori fiscali il grande flop il mattino tassi più alti stangata sud il gazzettino Meloni alla guerra dei tassi l'unità chi impedì un incontro tra Putin e Berlusconi organizzato dal Vaticano il dubbio demolito un'altra fake mai usati a Bibiano elettroshock sui bimbi leggo basta occupazione abusive il secolo XIX Meloni è l'attacco dell'Europa l'avvenire Afghanistan segreto l'identità Frame e MES poi il resto del Carlino Meloni sfida l'Europa su tassi MES la notizia un expiduista capo dell'osservatorio per la legalità l'incredibile nomina di Rocca alla regione Lazio questo era poi andiamo sulla notizia ora andiamo al quotidiano del sud l'altra voce dell'Italia a lavorare alle gru del miracolo italiano l'opinione liberi di criticare la banca centrale europea la discussione no al mess adesso questione di metodo negoziato alla governance europea questo era appunto erano i principali titoli delle delle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola e come sempre ci avviamo verso la conclusione del nostro appuntamento con lo sport andiamo ai quotidiani sportivi nazionali la gazzetta dello sport Zaniolo Juve ci sono poi la gazzetta dello sport sempre figuraccia azzurra Italia già a casa eliminata da tutto under 21 poi il correa dello sport Napoli spunta Lenormand che scontro per frattesi poi preso di mira Giuseppe Murigno 10 giorni di stop per il caso Kiffi la Roma si ribella Giuseppe Murigno dovrà saltare i primi dei turni di campionato oltre a 4 gare di Euro League poi fallimento Italia perde torna a casa europeo under 21 KO con la Norvegia 1 a 0 e andiamo su tutto sport caos giuntoli si legge su tutto sport poi Italia l'ultimo disastro ma dove vogliamo andare poi sono UEA valgo per 4 UEA nuovo acquisto della Juve poi flop azzurrina di Europa titola il quotidiano il quotidiano titola il quotidiano sportivo QS andiamo anche a vedere le questioni che riguardano ora lo sport partiamo dalle notizie che riguardano la regina secondo quanto riporta tutto sport la trattativa della regina da parte di eventuali nuovi proprietari sembra essersi arenata una settimana fa il ritmo per il passaggio di proprietà appariva molto serrato adesso la trattativa sembra aver subito una grande frenata e il gruppo italo-svizzolo capeggiato da Bruno Grande non appare più così vicino a concludere la trattativa per l'acquisto della regina secondo tutto sport la trattativa ha subito l'enlentamento perché si aspetta il verdetto della Covizoc sull'iscrizione del club in serie B il verdetto atteso per il 30 giugno che ormai è arrivato questo era su tutto sport appunto si parla di questo del caso della 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 regina e andiamo sullo sport di Gazzetta del Sud Online Crotone Asse col Pescara c'è interesse per Palmiero e Colai poi Catanzaro a caccia di un altro under il greco Keramithisis queste erano le notizie dello sport la Gazzetta la Gazzetta del Sud Online scorrendo appunto le notizie appunto leggevamo anche della regina infatti regina notte prima della Covizoc cresce la preoccupazione in città poi sul quotidiano del sud lo sport che brutta Italia si torna a casa sconfitta dalla Norvegia 1 a 0 all'europeo under 21 serie B regina fra domande e mistero inammissibile ricorso del Brescia contro il club Amaranto e la FIGC tanti interrogativi attorno al sud alizio dello stretto è attesa per le sorti societarie in serie C il Crotone guarda al Pescara piacciono Palmiero e Colai in attacco interesse per Malcore e Patierno serie B il Catanzaro si fa avanti per Tutino i giallorossi dovranno battere la concorrenza di Venezia e Cosenza su tutte si attende l'ufficializzazione di Veroli e Pompetti piace il portiere Betters serie B Cosenza tanta carne al fuoco sono diversi i nomi accostati al club rosso-blu il mercato sta per entrare nel vivo ufficiale ritiro ad Assisi del Cosenza dal 16 al 31 di luglio ritrovo in città pochi giorni prima poi serie D la mezza terme mercato molto attivo ma i riflettori sono sulla società scrive il quotidiano del sud il futuro dell'FC la mezza terme è legato alle sorti della regina c'è questo punto interrogativo poi sempre serie D Vibonese Antonio Boucher è il nuovo allenatore ha guidato la primavera dell'Empoli volley a due femminile soverato confermate le giovani Tomotti e Zuliani il personaggio Fiorino il percorso dei progressi a colloquio con il responsabile delle rappresentative di calcio in Calabria appunto Mimmo Fiorino volley serie A3 l'Omifer Palmi altra conferma poi il villaggio Europa Rende parliamo di promozione calcio promozione il villaggio Europa Rende protagonista sul mercato scrive il quotidiano del sud per quanto riguarda lo sport in coda al nostro appuntamento parliamo anche di Padel la viola tennis di La Mezzia ha l'obiettivo del salto di categoria la viola tennis della Mezzia ha iniziato il campionato di serie D maschile di Padel siamo arrivati alla conclusione del nuovo appuntamento con i giornali in tv come sempre ogni giorno con voi sui canali 94 e 98 del digitale del resto ma vi ricordo che gli appuntamenti con i giornali in tv ogni giorno con voi alle 14 alle 20 alle 7 e 30 potete seguirli anche sui canali social sulla pagina facebook di stv ma anche sulla piattaforma youtube di stv come sempre tante le notizie che abbiamo letto dal quotidiano da gazzetta dall'ammettino i principali titoli nelle prime pagine del quotidiano nazionale e poi in conclusione con lo sport come sempre da Pasqualino lettura è tutto grazie per averci seguito anche oggi fin qui naturalmente con un nuovo appuntamento con il giornale in tv ci rivedremo presto alla prossima edizione grazie per la prossima